è partita il 16 ottobre la campagna macchinetta amore mio la prima campagna pubblicitaria della distribuzione automatica del nuovo millennio un'iniziativa la cui portata non ha precedenti nel settore e promossa da confida l'unica associazione di categoria che rappresenta i diversi comparti merceologici dell'intera filiera della distribuzione automatica di alimenti e bevande chiamata oramai su scala internazionale semplicemente con il termine vending dopo 30 anni di assenza dalla comunicazione attraverso i mass media grazie a questo spot realizzato agli inizi degli anni 80 da confida che ha tenuto a battesimo il settore del vending nella comunicazione con il grande pubblico dal 16 ottobre è partita la campagna pubblicitaria dell'associazione di categoria e rivolta ai milioni di utilizzatori finali che quotidianamente fanno uso degli oltre 2 milioni di distributori automatici presenti in italia nel cui indotto lavorativo operano oltre 35 mila addetti macchinetta amore mio sarà lo slogan che il grande pubblico nei mesi di ottobre e novembre avrà modo di ascoltare leggere e guardare attraverso 38 emittenti televisive suddivise tra satellitari digitale terrestre e web tv con oltre 6 mila passaggi televisivi attraverso siti internet la rivista freccia rossa a bordo dei treni ad alta velocità affissioni in tutta la penisola e naturalmente lo strumento con cui in modo più semplice di immediato può essere raggiunto il consumatore finale il bicchiere erogato dal distributore automatico grazie alla collaborazione di molti e associate alla confida infatti per tre mesi circa i consumatori potranno leggere sui bicchieri che contengono i prodotti erogati dai distributori di bevande calde la frase chiave della campagna con l'invito a collegarsi alla immancabile pagina facebook un tormentone che potrà essere quindi toccato con mano a ogni pausa caffè dei prossimi mesi sei gli spot televisivi realizzati tutti da 15 secondi e ambientati in contesti d'uso tipici del vending ospedali fabbriche uffici e luoghi di transito protagonista ovviamente la macchinetta il distributore automatico la macchinetta è il luogo di ritrovo e appuntamento immancabile per milioni di italiani che quotidianamente la utilizzano per spezzare il ritmo di una giornata di lavoro per ritrovare energia e concentrazione o più semplicemente per scambiare due chiacchiere e un sorriso nella pausa caffè due i claim della campagna la nostra qualità è senza sosta e non siamo mai chiusi per ferie entrambi distintivi di alcuni tra i principali plus del vending continuità flessibilità e prossimità è un'iniziativa inutile dire fondamentale sulla quale abbiamo grandissime aspettative che ci auguriamo possa comunicare con forza la dignità e il valore di questo nostro comparto dignità che noi conosciamo benissimo valore che noi conosciamo benissimo e che spesso non siamo stati in grado di trasmettere ai nostri utenti noi siamo un settore modello per il fuoricasa abbiamo un senso di sacrificio per il consumatore finale che pochi altri hanno le nostre aziende accendono le loro luci la mattina prestissimo le chiudono la sera tardissimo in tutto questo periodo tecnici addetti a rifornimento commerciali passano l'intera giornata presso i clienti per rendere più piacevoli quei pochi secondi di ristoro credo che siamo pochi nel mondo della ristorazione a poterci freggiare di questa attenzione spasmodica al consumatore finale bisogna che il consumatore finale cominci ad apprezzarla realmente per ciò che quindi due claim non siamo mai chiusi per ferie la nostra qualità e senza sosta che raccolgono un forte sentimento che è quello che da il nome alla campagna e macchinetta amore mio macchinetta il nome confidenziale il nome affettuoso con cui il consumatore identifica la vending machine il distributore automatico ma è anche un segno di benessere di pausa di convivialità tutti i requisiti e tutti i fattori che noi andremo a sottolineare con questa campagna che vedremo massicciamente con più di 4000 spot in televisione tra ottobre e novembre e con diverse presenze sui principali quotidiani online quotidiani online la regia degli spot è stata affidata a roberto badò che in due giorni di riprese effettuati in studio nel mese di aprile 2011 e con la produzione a cura di cow and boys ha realizzato una comunicazione semplice ed efficace simulando la visione del telespettatore dal punto di vista del distributore e con un motivo musicale originale creato per l'occasione che da oggi è considerato il jingle di riconoscimento del vending macchinetta amore mio grazie a tutti grazie a tutti